Il mondo di oggi riguarda il possesso, riguarda acquistare la prossima auto più grande, la prossima casa più grande. Non nominerò nessun marchio, ma anche la prossima borsa o le scarpe o qualsiasi cosa. Come concili questa etica dell'acquisizione a tutti i costi, a volte con grandi debiti, con il tipo di sistema di valori che lo yoga insegna o chiede di abbracciare? Vedi, lo yoga non insegna alcun sistema di valori. Questa è la sua bellezza. Lo yoga si sforza solo di darti dei metodi per creare un'esperienza di inclusività. Dalla tua inclusività? Dall'esperienza dell'inclusività? Vedi, supponi di fare esperienza della persona accanto a te come parte di te stesso. Non devo dirti sii gentile con loro, non ucciderli, non far loro del male. Tutte queste cose non sono necessarie. Ora, a proposito del volere di più. Volere essere di più è naturale in un essere umano. Chiunque tu sia, qualunque cosa tu sia, vuoi essere qualcosa di più di ciò che sei adesso. Se conosci solo il denaro, pensi più denaro. Se conosci solo le borse, più borse. Perché non puoi ingrandirle, perché poi le devi portare. Più borse. E se conosci la ricchezza, più ricchezza. Se conosci la conoscenza, più conoscenza. Se conosci l'amore, più amore. Qualunque sia la tua moneta. Ma ogni essere umano si sforza di essere qualcosa di più di ciò che è adesso. Se quel di più ti accade in questo momento, poi cosa? Ci siete? Di più. Se quel di più accade, poi? Di più, di più, di più, giusto? Se lo osservi attentamente, questo processo di volersi espandere consapevolmente, se lo osservi, quanto di più ti accontenterà una volta per tutte, se lo vedi, sai chiaramente che stai cercando un'espansione infinita. Se ti faccio diventare il re o la regina di questo pianeta, saresti soddisfatto, sto chiedendo. Non guardarmi con speranza, non lo farò. Non sono conosciuto per fare sciocchezze simili. Ma vedi, il principio di acquisire sempre di più sta causando problemi nel mondo, perché il mondo diventa sempre più come in Sudafrica e in molti altri paesi, tra cui l'India, più iniquo. Ho raccolto alcuni dati interessanti. Questo è il momento in cui i ministri delle finanze guardano i dati. La ricchezza privata globale nel 2015 è salita a 168 trilioni di dollari, se riesci a immaginarlo. E questo è un aumento del 5,2% e l'aumento maggiore proviene dall'Asia Pacifica. In Cina ora ci sono più di 2 milioni di milionari. Anche l'India cresce rapidamente in quella direzione. L'Asia Pacifica ha registrato un incremento della ricchezza del 13%, fino a 37 trilioni di dollari di ricchezza, tra le fasce più alte. I sindacalisti, per esempio in Gran Bretagna, dicono questo. Nonostante tutta l'angoscia morale espressa dai leader degli affari e dai politici per la crescente disparità di ricchezza, viene fatto ben poco per cambiare lo status quo. A meno che le aziende qui e in tutto il mondo non limitino gli stipendi dei dirigenti e paghino la loro giusta quota di tasse, sono sicuro che ormai avete tutti sentito parlare di Panama, un paese che non pensavate si stesse, e investano in posti di lavoro dignitosi, il divario enorme tra chi ha e chi non ha continuerà a crescere. Questo è il dilemma che sta causando ogni sorta di problemi, sia all'interno dei paesi che in tutto il mondo. Qual è un modo alternativo di considerare la questione della ricchezza e di una maggiore equità nel mondo? Perché la ricerca di questa ricchezza è ciò che crea ogni sorta di conflitti tra gli esseri umani e contraddice il tipo di etica che credo tu stia promuovendo. No, non promuovo nessuna etica. Questo è ciò che voglio dire. Gli esseri umani vogliono di più. Se quel di più accade, vogliono di più, di più, di più. Quindi se davvero lo osservi, ciò che cercano non è di più. Cercano tutto. Vogliono tutto. Per questo ho detto, se diventi il re di questo pianeta si risolverà? No, guarderai le stelle. Questa è la natura dell'essere umano. Non puoi contenere questo. Puoi dare tutte le etiche che vuoi. Puoi dare tutte le filosofie pacifiste che vuoi. Non puoi contenere il desiderio nemmeno di un essere umano, perché l'anelito di espansione è inevitabile nell'essere umano. Ora, se vuoi espanderti in modo illimitato, cercare di farlo fisicamente è una cosa sciocca. Il tuo desiderio è fantastico. L'espansione infinita è un desiderio fantastico. Il metodo è senza speranza. Questo non accadrà avendo più macchine o più borse, qualunque sia la tua passione. Questo può accadere solo se trascendi le limitazioni della fisicità. È qui che subentra lo yoga. Yoga significa che impari ad annullare i confini della tua fisicità. Annullare i confini della fisicità significa adesso, mentre siamo seduti qui, questo sono io, quello sei tu, chiaro al 100%. Nessun tipo di ambiguità su questo. Ma mentre sei seduto qui, per essere vivo devi respirare. Respirare significa ciò che tu espiri, gli alberi inspirano. Ciò che lo respirano, tu inspiri. Metà dei tuoi polmoni in realtà si trova appesa all'albero. In altre parole, quello che tu pensi sia te non è una specie di stato solido. Ogni giorno qualcosa entra, qualcosa esce. Una transazione sta avvenendo. Non solo a livello di cibo e respiro. ogni particella subatomica in transazione con ogni altra cosa nell'universo. Yoga significa che inizi a fare esperienza di questa realtà della tua esistenza. Non è una filosofia. Questa è fisica moderna che ti dice che non esisti in quanto individuo. sta avvenendo come un unico grande avvenimento. Ma la magnanimità della creazione è tale che anche se sei solo un'esistenza microscopica, anche se sei parte di ogni cosa, sei solo una bolla nello spazio più ampio. Ti dà comunque un potente senso di individualità per cui puoi fare esperienza della tua vita in quanto individuo. ma la realtà dell'esistenza è che questo è un cosmo vivente e hai soffiato la tua bolla di sapone. Quando eri bambino soffiavi le bolle di sapone. La tua bolla e quella di qualcun altro erano nettamente diverse. Nel momento in cui scoppiava la mia aria la tua aria. Non c'è nulla del genere. Allo stesso modo questo abbiamo soffiato queste bolle e senza che il resto esista non possiamo essere qui. Quindi conoscere questo in modo esperienziale è yoga. Che tu capisca non intellettualmente ma sappia a livello esperienziale che la tua esistenza non è individuale ma è universale. Quindi questa disparità economica accade perché le persone cercano di soddisfare questa aspirazione di voler essere qualcosa di più. Qualcosa di più. Qualcosa di più. Siccome non conoscono nient'altro passano dal denaro in questo momento perché la disparità e l'aumento della ricchezza in certi paesi e quant'altro e vedi dobbiamo capire una cosa negli ultimi cento anni nessuna nuova importazione è avvenuta in questo pianeta dall'esterno. Sei d'accordo con me? Sono avvenute delle piccole esportazioni alcune navicelle spaziali e altro sono andate ma non c'è stata nessuna importazione nessun grande asteroide è venuto a portarci qualcosa. quindi siamo alla stessa quantità. C'è un episodio molto bello accaduto nel 2008 quando la recessione era appena iniziata ne parlavamo poco fa una delegazione americana è andata in Cina è capitato che in quel momento mi trovassi al forum economico e ho visto che l'intera delegazione americana aveva come dire delle facce lunghe un chilometro tutti in uno stato di depressione perché avevano qualche miliardo in meno rispetto a prima rispetto a quanto avevano quattro mesi prima qualche miliardo in meno quindi erano tutti infelici quindi mi hanno chiesto di occuparmi di una sessione intitolata recessione e depressione al forum economico mondiale allora ho detto la recessione è già abbastanza grave ora avete la depressione ma il modo in cui abbiamo strutturato il nostro motore economico il modo in cui abbiamo strutturato l'economia di questo pianeta adesso è tale che se fallisci sarai depresso se hai successo saremo dannati una volta per tutte sì quindi ho detto è meglio che tu sia depresso almeno puoi sederti e pensare cosa facciamo di sbagliato non è successo niente di più sul pianeta abbiamo solo trasformato una cosa in un'altra e in un'altra ancora non abbiamo aggiunto nient'altro al pianeta giusto? quindi una delegazione andò in Cina una delegazione americana ed erano tutti in uno stato di depressione quindi un saggio cinese diede loro una lezione prese una sedia e la mise davanti a uno specchio e disse vedi ora ci sono due sedie una qui una nello specchio andò a mettersi tra la sedia e lo specchio e disse ora c'è solo una sedia e ora sei depresso c'è sempre stata una sola sedia ci sarà sempre una sola sedia ma sul mercato puoi posizionare due specchi e creare diecimila sedie e un milione di sedie se vuoi ma c'è sempre stata una sola sedia impariamo a sederci su di essa correttamente assicuriamoci che tutti possano sederci in qualche modo quindi questa creazione della ricchezza generazione disparità alla fine dei conti non dico che non debba essere risolta sì deve essere decisamente affrontata ma una cosa è chiara tutti noi tutti noi rispetto a come vivevano i nostri genitori materialmente viviamo meglio di loro sì o no? per favore devi ammetterlo rispetto ai nostri nonni stiamo vivendo molto meglio di loro sì o no? rispetto ai nostri bisnonni stiamo vivendo molto molto meglio di loro in altre parole siamo la prima generazione a godere di questi livelli di comfort e di opportunità non lamentiamoci sforziamoci di fare ciò che vogliamo ma possiamo farlo con gioia non dobbiamo diventare infelici solo perché qualcun altro ha di più questa questione del di più andrà a su e giù chi ha di più chi ha di meno continua a succedere ma la cosa importante è che guardiamo qualcun altro e diventiamo infelici sì questa disparità deve essere affrontata la proprietà dei beni purtroppo va solo in poche mani nel mondo e deve essere risolto ma come lo risolverai? se cerchi di risolverlo andrai verso il comunismo non so perché indichi nella mia direzione no 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 facevo parte del partito comunista del sud africa devo confessarlo e ora posso indicare lui con decisione ora puoi indicare con decisione quindi il comunismo è un'idea fantastica non c'è idea migliore in termini di economia che ognuno abbia secondo i propri bisogni non la propria avidità davvero fantastica quando Marx ha avuto questa idea molte persone in tutto il mondo tutte le persone di buon senso si sono entusiasmate molto in tutto il mondo Marx aveva previsto che gli Stati Uniti d'America sarebbero diventati il primo paese comunista del mondo quanto si sbagliava la parola comunista è la cosa peggiore la cosa peggiore che puoi dire a una persona negli Stati Uniti oggi soprattutto negli anni 50 anche ora anche ora se vuoi davvero accusare qualcuno della cosa più orrenda non lo chiami assassino non lo chiami razzista dici che è un comunista questa è la cosa peggiore no no è successo anche in Sudafrica no ora non sto indicando te no 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 ora indico qui sotto vedi dico che è così che ci chiamavano in Sudafrica che tu fossi presente o meno vedi quindi è successo questo Mark Twain era così entusiasta di questo comunismo che andò in Russia quindi camminava su una strada di campagna e vede un signore di campagna con due galline sotto braccio che camminava allora lo raggiunse e disse compagno è vero che sei un comunista? chiese rispose sì sono membro del partito è vero che se avessi due bungalow ne daresti uno a qualcuno che non ce l'ha? rispose certo sono membro del partito lo farei lui chiese se avessi due carrozze ne regaleresti una a qualcuno? rispose certo ho una carica nel partito del mio villaggio lo farei sicuramente se avessi due polli ne daresti una a qualcuno? disse che diamine tutto quello che ho quindi quella che era un'idea fantastica è diventata una cosa ridicola nella pratica perché le persone che non avevano nulla volevano condividere quando le persone che hanno qualcosa vorranno condividere diventerà una cosa bellissima io ho molto e voglio condividere diventerebbe una cosa bellissima nel mondo ma le persone che non avevano nulla i più poveri delle società povere si sono avvicinate al comunismo perché non avevano nulla da condividere mentre se i più ricchi fossero diventati comunisti che mondo meraviglioso avremmo creato? questa era la visione di Marx sfortunatamente magari ne sapeva molto di economia ma giudicò male gli esseri umani grazie a tutti